Ciao ragazzi, ciao, tutto bene? Io sono un po' preoccupata perché, ve lo spiego subito, figlio Gabri è da questa mattina che non fa altro che pensare di essere mercoledì della famiglia Adams. E sì, fa delle cose strane, parla come mercoledì, parla come mercoledì, dice che gli piacciono solo le cose di colore nero, è un po' strano, però ve lo faccio vedere, infatti sto facendo questo video proprio per farvi vedere cosa sta combinando. Siete pronti? Lo spiamo! Andiamo! Vediamo insieme cosa sta combinando. Guardate! Guardate ragazzi, ma non è strano secondo voi? Fa questi balletti che... A me sembra un po' strano. A voi non vi pare? Guardate, guardate come si muove, cosa fa? Cosa possiamo fare? Mi aiutate? Vediamo, andiamo a vedere, scopriamo cosa ci dice. Vediamo un attimino se ci dice qualcosa. Andiamo! Tu chi sei? Ciao, io sono mamma vita. Tu chi sei? Sono mercoledì! Ma io qui avevo il mio bimbo. Avevo il mio bimbo, figlio Gabri, che figlio ha fatto? Non c'è! Come non c'è? L'hai visto per caso? No! E dove è andato? Andiamo a cercarlo, vediamo se... Posso cercarlo? No! Ma dammi la mano! Come dammi la mano? Dove mi porti? Aiuto, aiuto! Dove mi stai portando? Ragazzi, aiuto! Aiuto! Ma Mercoledì mi ha rapita! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Aiuto! Ragazzi, aiutatemi! Cosa vuoi farmi? Io voglio il mio bimbo, voglio il figlio Gabri! Ah! Mi sta legando! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi voi! Aiuto! Ti prego, mercoledì lasciami andare! Aiuto! Ma perché sei così cattiva? Mercoledì! Mercoledì io! Perché sei così cattiva? Parla! Cosa ti ho fatto? Mercoledì! Aiutami! Oh! Figlio Gabri! Dove sei? Figlio Gabri! Torna da mamma vita! Oh! Abbiamo finito! Uffa! Ancora! Ancora! Cosa vuoi farmi ancora? Le mani! Anche le mani! Guardate ragazzi! Mi sta legando anche le mani! E come faccio a liberarmi? Si arriva il mio bimbo! Ma tu chi sei? Sono beccoledì! E perché sei così cattiva? Ma qual è il tuo colore preferito? Il nero! Il nero? Ma come il nero? E il tuo animale preferito? Gatto nero! Il gatto nero! Il gatto nero! Va bene! Basta! Basta! Adesso guarda che i miei amici vengono a prenderti eh! Mercoledì! Vengono a prenderti! Va bene! Mi hai legato! Basta! Basta! Ora cosa vuoi farmi? Ancora! Mi hai legato! Ragazzi! Mi hai legato! Cosa sta facendo? Oh! Ma non vorrei mica scrivermi! Allora! Dove ti manco questo? Aiuto! Cosa stai facendo? Ma mi stai scrivendo! Oh! Aiuto! Aiuto! Ragazzi! Aiutatemi! Basta! Basta! Io voglio il mio bimbo! Voglio il figlio Capri! Che figli ha fatto? Che figli ha fatto? Figlio Capri! Figlio Capri! Figlio Capri! Figlio Capri! Torna da me! Mercoledì mi sta! Mi sta facendo del male! Ma cosa vuoi farmi ancora? Oh! Che rossetto! Ma io cosa ho fatto? Mi piace il rossetto! Sì! A te piace il rossetto mercoledì? Sì! Sì! Ma come? Rosso e rosa? Come fa a piacerti? Ah! Mi piace il mio! e non mi piace il rossetto mercoledì! Sì! Ci rosa! gratis! Ci rosa! Gianni! A meccolo! Ma cosa mi hai fatto? Ma, mi hai messo tutto il rossetto? E ora, cosa vuoi mettermi ancora? Aiuto, voglio il mio bimbo. Guardate cosa mi ha fatto. Voglio il mio bimbo. Ma io ti libererò. Aiuto. 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 Cosa mi sta combinando? Cosa mi sta combinando? Ragazzi, aiuto. 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 Basta. Mercoledì sei proprio una bimba cattiva. Ma io adesso mi libero. Io adesso mi libero. Mercoledì me la pagherai. Me la pagherai mercoledì. Vai via. Me la pagherai. Ragazzi, si sta trasformando. Secondo me sta tornando figlio Gabri. Sì, vediamo. Sì, sì, sì. Sta tornando figlio Gabri. Sì. Sì, sta tornando. Figlio Gabri. Ma sei tornato. Mamma, come hai in faccia? Io. Oh, cosa ho in faccia? Eh, ma come? Non ti ricordi niente? No. Ma come non ti ricordi niente? Davvero? No. Guarda. Ti racconto tutto. Tu pensavi di essere Mercoledì Adams. Lo sai? Come? Sì, pensavi di essere Mercoledì Adams. E mi hai. Guarda cosa mi hai fatto. E sei stata molto cattiva con me. Io volevo che tornasse figlio Gabri. Guarda cosa mi ha fatto Mercoledì Adams. Hai visto? Hai visto cosa ha fatto Mercoledì Adams alla tua mamma? Oh, meno male che i nostri amici hanno visto tutto. Lo sai? Eh sì, ma tu non ti ricordi niente? Ma? Come fai a non ricordarti niente? Mi ricordo che ballavo. Ah sì? Ti ricordi che ballavo? E che bello facevi? Te lo ricordi? Mercoledì. Ah, eccomè. Fammelo vedere. Vediamo. Allora. Vediamo. Amici. Vediamo. Fatto. Vai, vediamo. Allora. Quindi. Vediamo. Ah. E ti ricordi questo ballo? Sì. Eccomi. Io, guarda, io, Mercoledì mi ha proprio rovinato tutto. Guarda. Mi lavo tu. Mi lavi tu? Sì. Grazie, figlio Gabri. Sì. 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 Allora, chiediamo ai nostri amici se loro mercoledì l'hanno vista e se si sono divertiti soprattutto. Sì. 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 Mi è piaciuto mercoledì? Eh sì, noi ci siamo divertiti. O meglio, io mi sono divertita un po' meno. Tu, figlio Gabri, ti sei divertito? Eh, tantissimo. Eh, tantissimo. Allora, se questo video vi è piaciuto, mettete tanti like e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi vi salutiamo. Ciao. Un bacio da Mamma Vita e? Sì, figlio Gabri. Ciao. E soprattutto un bacio da Mercoledì. Ciao. Ciao. Ciao.